rendono speciali le nostre celebrazioni. I fuochi d'artificio di oggi sono talmente tecnologici che è facile dimenticare che non sono un'invenzione moderna. Ma cosa serve a un pirotecnico per crearli? Assemblare gli esplosivi nei fuochi d'artificio è compito del pirotecnico. Anche la più piccola scintilla di elettricità potrebbe farli esplodere, quindi i guanti antistatici sono obbligatori. Un fuochi d'artificio è costituito da compartimenti separati posti all'interno di un involucro. La miccia fa esplodere un compartimento alla volta creando delle esplosioni sfalsate. Prima il pirotecnico incolla la miccia principale sul fondo dell'involucro. La colla viene tinta di blu per capire esattamente dove la si applica. Ora mette da parte il fondo per lavorare sul secondo compartimento di questo fuoco d'artificio. Inizia versando un esplosivo in polvere al centro. Poi lo copre. La fase successiva è quella di applicare un pezzo di cartone marrone per assorbire il colpo e riparare questo compartimento dall'esplosione del primo. Poi si applica un disco di cartone ondulato e un distanziatore in plastica. La miccia impiegherà un secondo e mezzo per bruciare attraverso questi due pezzi, creando un leggero ritardo fra la prima esplosione e la seconda. Incollare questo secondo compartimento è complicato. Se è troppo stretto soffocherà l'esplosione, ma deve essere abbastanza aderente da sopportare il ritardo. È ora di preparare il primo compartimento. Il pirotecnico prende un contenitore che poi riempie con centinaia di stelle. Sono esplosivi attentamente misurati, uniti ad agenti coloranti come il magnesio per il bianco, i sali di rame per il blu, carbone di legna per l'arancio. Il pirotecnico deve maneggiarli con cautela o potrebbero esplodere. Poi aggiunge le comete, un altro tipo di decorazione esplosiva. Ora ricopre tutto con la polvere da sparo. Infine, incolla i due compartimenti riempiendo lo spazio rimanente con la stessa combinazione di ingredienti. Quando l'involucro è pieno, incolla il coperchio. Più è saldo, meglio è. Più questo crea pressione, più l'esplosione sarà grande e spettacolare. Poi avvolge il fuoco d'artificio con carta craft. L'etichetta utilizza codici a colori internazionali per indicare la misura dell'involucro. La carica di innalzamento, un sacchetto di polvere da sparo con una lunga miccia, va alla base dell'involucro. Questa manderà in cielo il fuoco d'artificio. Quando si accende, la miccia principale in cima ne accende simultaneamente altre due secondarie. La miccia ritardante, che corre all'interno dell'involucro attraverso i compartimenti dell'esplosivo, e la lunga miccia che scorre lungo l'esterno. Quando la carica di innalzamento prende fuoco, il calore e il gas aumentano all'interno del tubo di lancio, finché non esplodono, spingendo il fuoco d'artificio fino a 300 metri d'altezza. E ora diamo inizio allo spettacolo!